Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori si segnalano un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno e rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. In A12 in direzione Rosignano codi a tratti per lavori tra Massa e Versilia e tra Versilia e l'allacciamento con raccordo Lucca-Viareggio. In A1 in direzione Bologna tratto chiuso per lavori tra Aglio e Rioveggio. Sempre in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!